Cinque giovani frati hanno vissuto sabato la loro professione solenne, consacrando in modo definitivo la loro vita nella famiglia dell'Ordine dei Predicatori. Il rito ha avuto luogo nella Basilica di San Domenico ed è stato presieduto dal priore della provincia domenicana dell'Italia settentrionale, Fra Daniele Drago. I frati che in risposta alla chiamata del Signore hanno professato i voti di povertà, castità e obbedienza per tutta la vita, sono Fra Stefano Burdese, 37 anni, originario di Brà, il milanese e 32enne, Fra Giovanni Pediglieri, Fra Damiano Andrini, 31 anni, di Crema, Fra Stefano Pisetta, originario della Val Sugana, 26 anni, nel gruppo dei religiosi anche il bolognese, Fra Paolo Zauli, 24 anni, originario della parrocchia di San Paolo di Ravone. Scrive Papa Francesco nella lettera inviata l'anno scorso al Maestro Generale dei Domenicani per l'ottavo centenario della morte di San Domenico, possa all'Ordine dei Predicatori essere in prima linea di una rinnovata proclamazione del Vangelo, capace di parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo e di risvegliare in loro una sete per la venuta del Regno di Cristo, di santità, giustizia e pace.